Un gol realizzato alla grande, la Tozzi Borsei, un altro che forse è riconvinto di realizzarlo più facilmente. Sì, sono andato meno cattivo e alla fine ho fatto quello più difficile e mi sono mangiato quello più facile, però l'importante è che abbiamo ottenuto questi tre punti bene, l'abbiamo ottenuto facendo una buonissima prestazione, abbiamo retto il campo anche dopo il vantaggio, cosa che forse abbiamo fatto meno inizialmente all'inizio del campionato, quindi vuol dire che siamo cresciuti e siamo madorati ancora di più. Sicuramente l'andata in campo di grotta a mare, loro si difendevano meglio perché il campo è un po' più piccolo, un po' più stretto. E poi riconoscevate anche da voi? Esatto, sicuramente perché era, se non sbaglio, la terza di campionato, quindi era un po' difficile, però qui a Righiera purtroppo dobbiamo vincerle tutte come trasferta e quindi ci siamo riusciti alla grande oggi. Stai emulando sempre più il capitano con questi gol particolari? No, io del capitano posso solo che imparare, quindi... Ma oggi hai dato un saggio abbastanza di contare? Ma no, è stato un gol, sono contento del gol perché oggi ci tenevo particolarmente perché era il compitano del mio fratello e volevo deliargli un gol che non l'ho mai fatto, quindi il gol è per lui. Complimenti. Grazie. Grazie.